allora abbiamo un tubo e un coniglietto di color grigio! meravigliose! copriamo il coniglietto con il tubo lo porto dietro la schiena così e magicamente basta fare questo gesto e il coniglietto diventa un gioco nooo! questa è magia! guarda! mi è stato convinto! guarda lo rifacciamo perché ho convinto poco secondo me lo prendo e lo rifaccio qua nella schiena guarda così 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 basta un gesto magico in questa maniera è il coniglietto dietro di color grigio siiii! che meraviglia! bellissimo! sta dietro secondo me dietro non c'è niente guarda dietro non c'è niente dietro non c'è niente dietro qui? si non c'è niente 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 ci vediamo